Per il compleanno della Greta abbiamo adottato un nuovissimo dispositivo compatibile con il centralino NETESIS NET VOICE 8 che uscirà a breve, il telefono risonante. Andiamo a vedere a Presezzo e a Treviolo come lo stanno utilizzando. Treviiii! Treviiii! Sì? Ma mi senti che stai colando? Davvero? Eh sì! Vado a vedere! Treviii! Mi senti? Sì Greta! Dimmi! Dopo di questa, anche se dalla community NETESIS si buttano fuori, adesso hanno un buon motivo. Ciao!